ciao a tutti voi amici visionari che come me amate il cinema e le serie tv le vacanze sono finite sparite come un soffio e quindi lauretta buffa e il sito visionaire.fm tornano e torniamo a bomba con la prima recensione della stagione di settembre ovvero la recensione del film che ho visto l'altra sera su amazon prime video il regno una commedia del 2020 quindi nuovissima diretta da francesco fanuele il film racconta di giacomo un autista dell'atac la società di trasporti romana che alla morte del padre viene convocato dal suo avvocato in una vecchia tenuta fuori porta il padre che lo aveva cacciato di casa insieme alla madre molti anni prima quando era un ragazzino gli ha lasciato in eredità tutti i suoi possedimenti e fino a qui tutto bene più o meno ecco il fatto è che nella sua tenuta di campagna si è costituita una piccola comunità che vive secondo tradizioni medioevali suo padre si era autoproclamato re e lui ne diviene quindi successore questa commedia è il primo lungometraggio del regista e devo dire ahimè si vede nel senso che l'idea è molto interessante e potrebbe dare spunto a tante situazioni divertenti ma che potrebbero anche far riflettere sulla nostra società e sul nostro modo di vivere però la sensazione è quella di seguire una narrazione inconcludente tanti spunti interessanti quindi lanciati e poi subito abbandonati davvero un'occasione mancata mi spiace mi spiace davvero tantissimo dirlo mi spiace per stefano fresi che è sempre bravissimo in parte e spiace anche per gli altri attori del cast max tortora silvia d'amico fotini peluso e la ritrovata agnese nano che fanno egregiamente il loro lavoro ecco sì oddio magari tortora a volte un po eccessivo però ci sta nel personaggio purtroppo ciò che non funziona è lo sviluppo della storia che sembra buttata a casaccio la confezione è molto bella e i titoli di testa davvero notevoli li ho apprezzati moltissimo come sapete però è ciò che nelle mie recensioni conta non è tanto la confezione che pure ha la sua grandissima importanza ma è la narrazione e la godibilità della storia nel suo complesso per lo spettatore peccato che il rapporto tra il protagonista e la sorella un rapporto conflittuale si è appena abbozzato e poi lasciato lì peccato che non si spinga né sul pedale della commedia né su quello della critica sociale che poi la generata il massimo secondo me sarebbe coniugare le due cose quindi ridere riflettendo o riflettere o riflettere ridendo secondo me è il massimo della commedia la sua massima espressione ma comunque peccato perché si rimane sulla superficie si galleggia sulla superficie peccato anche per il finale che sembra appiccicato lì con lo scotch giusto perché bisognava arrivare alla parola fine il tempo era finito era scaduto e peccato per la storia e per gli attori che meritavano sicuramente di più spero che questa recensione vi sia stata utile per scegliere cosa vedere stasera sulle piattaformi disponibili online se la recensione vi è piaciuta lasciatemi un like un commento ditemi cosa ne pensate voi del film il regno se l'avete visto condividete con i vostri amici mi farebbe veramente piacere soprattutto venitemi a trovare sul sito www.visionaire.fm e sui social collegati che trovate nella descrizione a questo video da lauretta e da visionaire è davvero tutto ciao ciao